Un benvenuto a tutti i cittadini intervenuti alla cerimonia dell'alza bandiera che si inquadra nell'ambito delle iniziative organizzate in Prato volte a celebrare il 76esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Verrà ora deposta una corona al monumento ai caduti. La Repubblica Italiana 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 La Repubblica Italiana